Ciao a tutti, io sono Giorgia e sono una psicologa e io resto a casa. Sì, ma cos'è casa per te? Praticamente in questo momento l'intera nostra vita viene a casa, a casa dormiamo, mangiamo, studiamo, vediamo gli amici, facciamo sport e magari a casa siamo bene, ci sentiamo al sicuro o forse in questo periodo stare a casa non è così facile. E quindi noi psicologhe del progetto Kick the Quarantine lo chiediamo a te e ai ragazzi della tua età, cos'è casa per te? Cosa puoi fare per sentirti a casa? E puoi risponderci mandando un video, un racconto, fotografie, collage, sbizzarrisciti all'indirizzo email kickthequarantine-gmail.com e riceverai un nostro rimando personale. E se vuoi condividere chiaramente puoi farlo, anzi, usando l'hashtag Kick the Quarantine oppure l'hashtag Kick the Tom. Noi fra un po' raccoglieremo il materiale che ci inviate, produrremo un video nel quale racconteremo quello che avete condiviso con voi. E in questo periodo possono essere tanti i pensieri e le riflessioni che emergono, quindi se c'è qualcosa che per te è importante, qualcosa del quale vorresti parlare, non esitare a dircelo, ogni stimolo è il benvenuto. E quindi iniziamo da questo, cos'è casa per te? E ci vedremo presto, ciao! Grazie a tutti!